sono tornata a verona in una splendida giornata d'inverno per venire a scoprire le storie e le leggende dei templari e mi sono ritrovata suave una splendida città che è circondata da mura ed è famosa per il vino e per il castello dopo aver girato per le vie di suave mi sono recata alla cantina del castello dove sapevo che avrei trovato le informazioni che stavo cercando ad aspettarmi c'era marco il proprietario della cantina che mi ha condotto nella parte più storica e sotterranea ciao lucia benvenuti nel castello sono marco questo è il cuore storico della cantina fu un luogo collegato alla storia e alla leggenda dei templari è un ordine cavallerisco cristiano nato agli inizi del 1100 per conquistare la terra santa e proteggerla dagli infedeli questo palazzo fu costruito attorno al 1200 1250 e fu una maison templare quindi era il fulcro dell'attività dei cavallieri templari lungo la via postumia a difesa dei pellegrini una cosa veramente interessante che mi ha detto è che all'epoca fungeva da istituto di credito praticamente le persone potevano venire a lasciare l'argento e quindi intraprendere i loro viaggi senza pericoli perché poi potevano ritirare questo argento in un'altra maison in questa stanza probabilmente i templari svolgevano le loro attività alchemiche ma sicuramente anche di produzione di vino vino che a quel tempo era molto legato alle funzioni religiose di cui loro erano custodi loro avevano un forte legame con il mondo esoterico e mi ha accennato che probabilmente quest'area veniva utilizzata come stanza alchemica come puoi vedere qui c'è un tunnel ora franato che in quegli anni portava al castello di suame e permetteva ai templari di spostarsi tra il castello e la loro maison è incredibile pensare che proprio qui abbia avuto luogo uno dei misteri più affascinanti della storia occidentale quello dei templari quando poi usciremo potrai vedere sulla facciata del palazzo le iscrizioni che riportano il motto dei templari ma perché i templari proprio qui a suave suave e verona al tempo erano molto importanti non era conosciuta come minore jerusalemme quindi oltre avere una posizione strategica dominante era anche molto importante dal punto di vista religioso e da dove c'era importanza religiosa i templari c'erano successivamente io e marco siamo usciti per farci un giro per le vie di soave e siamo arrivati fin sopra al castello che offre una vista meravigliosa suave mi ha sorpresa perché è una città meravigliosa ma piccolina e non mi aspettavo di scoprire così tante cose sui templari e chissà quante altre cose ci saranno da scoprire grazie grazie grazie